Schinius, una non nuova perché in realtà nasce nel 2008, però insomma anche a livello di comunicazione oggi state spingendo e non poco. Canale distributivo a farmacia ma soprattutto eccellenza nelle composizioni e anche innovazione grazie a una ricerca. Dove sta insomma il plus di questa linea? Allora, ho pensato di creare delle formulazioni non tanto pensando a cosa non ci dovesse essere ma a quello che invece doveva assolutamente essere presente per aiutare le cellule a rigenerarsi e a rinnovarsi. Queste sostanze le ho trovate nei fosfolipidi che sono importanti per la formazione delle membrane e nella glucosamina che anche essa è importante a livello di membrana. Oltre a questo la glucosamina è importante perché è il procursore dell'acido ialuronico e quindi quando le cellule ricevono questo principio attivo riescono a produrre più facilmente acido ialuronico e quindi ad essere più idratate. Guardando al business è certamente il comparto della bellezza, un comparto molto agguerrito, globalizzato ormai. Come si riesce a vincere e come vi sta andando sotto quel profilo? Allora, devo dire che noi abbiamo risultati decisamente molto confortanti e negli ultimi anni il nostro trend è assolutamente in crescita con fatturati che crescono del 25% ogni anno. Grazie al passaparola avete iniziato anche insomma in tema di comunicazione, come vi state muovendo? Allora, inizialmente è stato un passaparola, poi devo dire in quest'ultimo anno abbiamo partecipato al Cosmopharma a Bologna, abbiamo cominciato a comparire su qualche rivista facendo delle pubblicità e quindi stiamo cominciando ad investire in comunicazione, anche se il nostro investimento è molto limitato perché siamo ancora molto giovani. Tuttavia in quest'ultimo anno stiamo riscontrando un ulteriore incremento. Che tipo di comunicazione fate? Cioè fiera a parte, più online? Tra l'altro navigavo nel vostro sito che è molto ben fatto e anche insomma molto semplice da usare anche per quanto riguarda l'e-commerce. Vi sta dando soddisfazione quel canale? Moltissimo perché abbiamo un servizio di skin mail, noi li occhiamiamo così, qui gli utenti ci fanno delle domande, ci chiedono consigli e molto spesso alla fine poi il consumatore acquista direttamente da noi sul sito attraverso l'e-commerce. A volte si instaurano anche dei rapporti quasi di amicizia, soprattutto quando le persone sono un po' grandi e quindi hanno difficoltà ad accedere all'acquisto online. Quindi abbiamo del personale, un customer service che li segue, li aiuta a registrarsi, ad acquistare e devo dire che questo tipo di vendita ci sta dando anche queste grosse soddisfazioni. Lavorate con qualche agenzia di comunicazione che vi supporta? Sì, abbiamo ultimamente un'agenzia di comunicazione che ci sta seguendo da maggio di quest'anno e anche con questa agenzia di comunicazione ovviamente stiamo avendo dei grossi risultati. Porniamo al prodotto, lo troviamo in tutte le farmacie? Allora diciamo che noi ci affidiamo ai più grossi distributtori nazionali che quindi riescono a far arrivare i prodotti in tutta Italia, isole comprese. Poi abbiamo anche delle farmacie affezionate che acquistano direttamente da noi i prodotti e quindi hanno anche un servizio dedicato perché noi studiamo la vetrina, la personalizziamo, forniamo della campionatura gratuita per far conoscere la linea, forniamo delle shopper, delle brochure e quindi in questo modo il farmacista può meglio illustrare la linea e quindi vendere i nostri prodotti in modo più completo. Insomma funzionano, questo ce l'assicuro. Devo dire funzionano e il nostro prodotto di punta della linea è il Fospid gelsiero perché è quello che più di ogni altro contiene Fospidin in concentrazione molto alta. Fospidin è proprio il complesso dei due principi attivi, fosfolipidi e glucosamina, che agendo in modo sinergico riescono a ristrutturare e ringiovanire la nostra pelle. Tutti gli altri prodotti poi agiscono da supporto all'azione del siero che deve essere applicato tutte le sere. Però devo dire, e lo si riscontra molto facilmente, dopo poche applicazioni i risultati sono già evidenti perché il siero è molto concentrato. Ci incontriamo qui allo Spazio Sirtori a Milano. C'è un'occasione speciale per questa conferenza stampa? Annuncerete nuove cose? In realtà non abbiamo mai presentato ufficialmente l'azienda, quindi lo stiamo facendo ora. Racconteremo la storia di come ho pensato, quali sono state le circostanze che mi hanno portato a fondare la Skinius e a pensare ad una linea dermocosmetica. Presenteremo poi i prodotti e direi che questo è il primo evento dedicato a questa finalità. Quindi anche in Italia è ancora possibile lanciare nuove linee? Si può ed è anche sostenibile sotto un profilo di bilancio? Sì, tra l'altro siamo molto orgogliosi perché si tratta di una linea, di un'azienda assolutamente 100% made in Italy e questo credo sia importante ribadirlo perché i prodotti italiani sono caratterizzati proprio dalla cura nelle formulazioni, nel design, assoluta attenzione ai dettagli e questo direi che ci contraddistingue in tutto il mercato internazionale.